Le stelle sono corpi celesti che nascono, si evolvono e muoiono. I processi sono estremamente lunghi e complessi e possono durare da milioni fino anche a miliardi di anni. Esse nascono dalla contrazione di estese e rarefatte nubi molecolari, costituite soprattutto da idrogeno. In queste nubi troviamo in quantità modesta anche granuli di polvere che svolgono il ruolo di promotori per la formazione dei cosiddetti nuclei di condessazione. Si ritiene che le stelle nascono dai cosiddetti globuli di Bok, veri e propri addensamenti di gas e polveri che appaiono come nuclei oscuri nettamente circoscritti all'interno di luminosissime nebulose. All'interno di queste culle cosmiche possono innescarsi dei moti turbolenti causati ad esempio da un'onda d'urto derivante dall'esplosione di una supernova oppure dal vento stellare generato da stelle giovani. Ciò comporterebbe la frammentazione dei globuli più piccoli all'interno dei quali inizia l'aggregazione di gas e polveri. Man mano che prosegue questa aggregazione di materia aumenta sempre più l'attrazione gravitazionale tra le particelle generando la formazione di un nucleo di condensazione che porterà la formazione di una struttura grossolanamente sferica sempre più calda causata dalla compressione dei gas. La fase di gestazione può durare sino a milioni di anni, ciò dipende dalla massa iniziale della nube stessa e non si conclude con la formazione di una stella vera e propria, bensì da quella che viene definita protostella. Le protostelle sono embrioni stellari che accumulano materia incrementando la loro massa fino al punto in cui sotto il peso della gravità ha inizio la fusione dell'idrogeno in elio e secondo alcuni modelli teorici si forma ad essa un disco rotante circostellare. Man mano che lo sviluppo procede l'astronascente emette flussi bipolari di plasma sotto forma di getti che si propagano in direzioni opposte, spinti da intensi campi magnetici che si sono generati all'interno della protostella. La protostella ha le caratteristiche di una gigante rossa e possiede una temperatura di circa 2500 kelvin, un raggio pari a 110 volte quello del sole e la luminosità pari a mille volte. Con il progredire della contrazione diminuisce la superficie radiante e si riduce la luminosità ma aumenta vertiginosamente la temperatura e allora quando si raggiungono temperature dell'ordine di 10-15 milioni di kelvin inizia la fusione dell'idrogeno in elio. E' nata una stella. Essa viene definita tale quando si trova in una fase di equilibrio detto idrostatico in cui si mantiene costante il volume e il diametro stellare, in quanto la tendenza ad espandersi data dall'energia generata dalla fusione nucleare viene contrastata dalla forza di gravità del plasma che tenderebbe invece a farla collassare. A seconda della massa iniziale della nebulosa la stella potrà nascere ad esempio come una gigante azzurra o come una stella gialla tipo il sole oppure come una nana rossa, cioè in una delle tante tipologie di stelle collocate nella sequenza principale del diagramma HR. La permanenza della stella nella sequenza principale dipende dalla sua massa iniziale. Tanto maggiore è la massa e la temperatura, tanto più rapidamente essa inizierà ad evolvere. Ad esempio, una stella di classe O inizierà la sua evoluzione dopo circa un milione di anni, mentre una nana rossa impiegherà miliardi e miliardi di anni. Il sole è nato 5 miliardi di anni fa e si stima che rimarrà ancora in questa fase di equilibrio per altri 5 miliardi di anni. Quando la stella comincerà ad evolvere si parlerà di una fase di post sequenza che risulta piuttosto complessa ed articolata, dando luogo a varie tipologie di fenomeni. Pertanto, assumendo come massa di riferimento quella solare, consideriamo due linee evolutive, e cioè stelle che presentano una massa compresa tra le 0,5 e le 8 masse solari, e stelle che hanno una massa maggiore di 8 masse solari. La fase evolutiva di una stella con massa compresa tra 0,5 e 8 masse solari inizia quando tutto l'idrogeno contenuto nel nucleo sarà convertito in elio. Terminano i processi di fusione nucleare e crolla la temperatura del core, e poiché non viene più prodotta energia capace di contrapporsi alla forza di gravità, quest'ultima prenderà il sopravvento. Il nucleo della stella sarà soggetta a una serie di contrazioni, aumentando la sua temperatura che verrà trasmessa al materiale circostante. In questo modo, iniziano a ripartire le reazioni di fusione dell'idrogeno in un sottile guscio attorno al nucleo di elio. A causa dell'alta temperatura, l'involucro gassoso esterno della stella si espande enormemente. La superficie si dilata e si raffredda, finché la forza di gravità fermerà l'espansione, raggiungendo un nuovo equilibrio. La stella è entrata in una nuova fase e appare come gigante rossa, stella fredda ma molto luminosa. Arrivata a questo stadio, le giganti rosse finiscono per espellere i loro strati più esterni, trascinati da un imponente vento stellare, che dà origine a nubi di gas in espansione, generando una nebulosa planetaria. A causa della perdita dell'involucro esterno, ciò che rimane della gigante rossa è un nucleo rovente, che dopo circa un miliardo di anni si andrà a raffreddare diventando una nana bianca, dalle dimensioni della Terra e avendo una densità dell'ordine di 10 alla 6 grammi centimetro cubo. Queste nane bianche risultano stabili solo se non superano quello che viene chiamato limite o massa di Chandrasekhar dal nome del suo scopritore, che è pari a 1,44 masse solari. Infatti nel nucleo di una nana bianca il processo di compressione della materia giunge ad un limite, in quanto gli elettroni degli atomi sono talmente impacchettati tra di loro da impedire una ulteriore compressione della stella. Pertanto, se questo limite è inferiore a 1,44 masse solari, una nana bianca può rimanere stabile indefinitivamente. Se invece dovesse essere maggiore di 1,44 masse solari, la stella è costretta a collassare ulteriormente. La nana bianca continua a disperdere calore nello spazio, ma ci vorranno miliardi di anni perché si raffreddi completamente e si trasformi in una nana nera. Vediamo cosa accade per stelle a 20 masse superiori a 8 masse solari. Anche in questo caso, quando tutto l'idrogeno contenuto nel nucleo sarà convertito in elio, terminano i processi di fusione nucleare e crolla la temperatura all'interno del nucleo. Si assiste ad un'enorme espansione dei gas e poiché trattasi di una stella molto massiccia, essa darà vita a una supergigante o ipergigante rossa, il cui raggio può arrivare sino a 2.000 raggi solari. Queste stelle, in brevissimo tempo, passano dalla classe O alla classe M del diagramma HR e sono caratterizzate da una bassa temperatura superficiale e da un'enorme luminosità. Il nucleo di elio generato si contrae perché non esiste più produzione di energia che si contrapponga alla gravità. La temperatura è dell'ordine di miliardi di Kelvin e ciò permette l'avvio di nuove fusioni nucleari che trasformano l'elio in carbonio, quest'ultimo in ossigeno, poi in neon, zolfo e silicio. L'ultimo ciclo della fusione è la trasformazione del silicio in ferro. Si arrestano i processi di fusione in quanto un ulteriore bruciamento di ferro determinerebbe un assorbimento anziché liberazione di energia. Queste fusioni generano una struttura detta cipolla, avente un nucleo di ferro, circondati da gusci di silicio e zolfo, ossigeno, neon, carbonio, elio ed idrogeno. Poiché all'interno del nucleo di ferro non viene più prodotta energia, la stella si trova nella stessa condizione di una nana bianca, cioè può opporsi o meno ad un'ulteriore contrazione. In questo caso, se il nucleo supera il valore di 1,44 masse solari, esso collasserà su se stesso e, in meno di un secondo, quello che segue una supernova di tipo 2, un'esplosione incredibile, la più potente dopo il Big Bang, che ha dato origine all'universo. L'energia liberata dall'esplosione è talmente elevata tale da consentire la fusione dei prodotti della nucleosintesi stellare in elementi ancora più pesanti, quali oro e magnesio. L'esplosione della supernova diffonde nello spazio la gran parte della materia che costituiva la stella. Tale materia forma il cosiddetto residuo di supernova, mentre il nucleo residuo sopravvive in uno stato altamente degenere e tutto quello che rimane al centro è una scoria densa e scura. Questi residui di materia sono talmente densi che potrebbero dare origine sia a una stella di neutroni che a un buco nero. I modelli teorici riportano che affinché si formi una stella di neutroni, il residuo della stella deve essere compreso all'incirca tra 1,5 e 3 masse solari. In queste condizioni la materia subisce drastiche trasformazioni, i protoni ed elettroni si fondono insieme per dare origine a un mare di neutroni. Da qui il termine di stelle di neutroni. Questa stella ha un diametro di 20-40 km e la sua densità raggiunge i valori di 10 alla 15 cm³, cioè un decimetro cubo peserebbe mille miliardi di tonnellate. A seguito del collasso gravitazionale la stella potrebbe entrare in rapidissima rotazione ed emettere un intenso fascio conico di onde radio ad intervalli regolari non superiori a 4 secondi. A questo tipo di stelle è stato attribuito il nome di pulsar. Nel caso in cui la stella originaria sia talmente massiccia che il nucleo residuo abbia una massa superiore alle 3,8 masse solari, ciò che resta è un buco nero, di cui si parlerà diffusamente in un video ad esso dedicato. Un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire né la materia né la radiazione elettromagnetica. Da un punto di vista relativistico, essa è una regione dello spazio-tempo con una curvatura talmente grande che nulla dal suo interno può uscirne, nemmeno la luce. Da qui il termine di buco nero. Pertanto, essi non possono essere osservati direttamente e la loro esistenza è teorizzata da prove indirette, a seguito di numerosissime osservazioni effettuate in galassie attive e da sistemi di stelle binarie dove viene liberata un'enorme quantità di raggi X. All'interno del buco nero lo spazio-tempo è talmente distorto che risulta impossibile muoversi in qualsiasi direzione, tranne verso quel punto chiamato singolarità, dove il volume occupato tende a zero e la densità ha valori infiniti. Grazie. 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 Grazie.